Edna! Edna! Edna, togliti le cuffie! C'è del fuoco tutto intorno a te! Il fuoco si sta espandendo troppo in fretta! Hai bisogno di aiuto! C'è del fuoco nel parco! Alla città servono tutte le tue capacità! Edna deve aver urtato un tubo! Super Camion, in cosa ti trasformerai per avere la meglio su questo fuoco? Bene, Renato! Oh! 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 Un ottimo lavoro! Ma c'è ancora tantissimo da fare! C'è qualcosa alla tua sinistra! Ora alla tua destra! Edna, il super camion è qui per aiutarci! Super camion, il fuoco si è espanso tutto intorno al parco! Super camion, il fuoco si è espanso tutto intorno al parco! Vuoi usare l'ST3000? Oh cielo, non vedo l'ora di vederlo in azione questa volta! Ah, bene bu! Wow! Wow, sta funzionando perfettamente! E sta anche domando i fuochi! Oh no! Carl, devi fermare il fuoco prima che vada fin laggiù! Ci è mancato davvero un pelo! E' stato veramente fantastico, Marley! Ok, penso che abbiamo avuto abbastanza fuoco per oggi! Vuoi che Marley ti salti sopra? Ok, divertitevi ragazzi! Oh! Ciao! How's that? Uh! Grazie a tutti.